buongiorno buongiorno un cazzo scusa ma che ti sei messo ma che ti sei messo guardate che ti sei messo e dove porta mamma mia come va cammina un po più a destra vai vai più a sinistra vai vai mamma mia ma secondo te faticherà a sinistra e sinistra avanti indietro ma perché a destra e a sinistra guarda che più le forbici è taglio ma perché era parecchia così dai sei bellino no no sta posta posta ma franke stein o o no e merotti coiù tu e franke stein